Nessuna dichiarazione deve essere resa al comune ai sensi dell'articolo 78,3 del Tuel trattandosi di norma comportamentale. Lo ha messo nero su bianco il vice segretario generale Filomena Sorrentino rispondendo nei giorni scorsi all'istanza di accesso agli atti depositata da quattro consiglieri di minoranza sulla presunta incompatibilità degli assessori Franco Casciani e Katia Dinisio. Si rappresenta che il citato articolo Tuel, doveri e condizioni giuridiche, fa riferimento a norme comportamentali che gli amministratori in ragione a ruolo istituzionale sono tenuti ad assumere, si legge nella risposta che arriva da Palazzo San Francesco. In particolare il comma 3 prevede un obbligo di astensione da parte dei componenti l'aggiunta in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici nell'esercizio delle loro attività professionali sui stessi ambiti, limitatamente al territorio da essi amministrato. La disposizione, come chiarito nel parere del 25 febbraio 2004 dal Ministero dell'Interno, non indica quindi una causa di incompatibilità. La razio, come indicato dall'ANAC nella deliberazione del 14 dicembre 2016, è prevedere un obbligo di astensione nei confronti dei membri delle giunte, per cui nessuna dichiarazione deverà essere resa al Comune.